oggi voglio parlarvi di una tematica importante circa venti giorni fa ho fatto un pacchetto prevenzione in un ospedale che prevedeva tra le altre visite tra le varie visite la visita dermatologica con la mappatura dei nei io ho sempre avuto una cara ragione molto scura ho pochissimi nei e pensavo di non avere nessuno problema e invece la dermatologa mi ha trovato ne ho sospetto e nel giro di tre giorni ho subito un piccolissimo intervento chirurgico ma comunque abbastanza importante e oggi sono andato finalmente a riterare gli esami per fortuna non non c'è nulla di cui preoccuparsi ma comunque fare prevenzione proteggersi soprattutto l'estate al mare con una crema solare 50 più è importantissimo perché questi sono i danni di quando noi andavamo al mare senza protezione siamo presi spesso molte scottature e proteggere la pelle soprattutto in questo periodo quindi tenete quanto più possibile la maglietta addosso quando vi spogliate al mare mettete la crema solare con una protezione altissima e soprattutto fatelo con i bambini fateli indossare la maglietta almeno fino ai dieci anni di età tante bambine non interessa essere abbronzati non hanno questi vezzi da adulti e non sono vanitosi quindi fate prevenzione state attenti perché il pericolo sole il pericolo tumori e dietro l'angolo